Sì, ci siamo allora. Gianni, Gianni Amedio che era appunto prima con me, raggiungemi subito immediatamente Gianni per favore. Poi ovviamente invito anche Leonardo Maltese, Simone Gattoni e anche Federico Fava. Non vedo più Gianni, forse sta salutando. Grazie. Grazie, veramente. Dovrebbe ringraziarvi Gianni, però vi ringrazio anch'io, anche voi sono rimasti tantissimi. È mezzanotte, quindi la prossima volta lo faccio più lungo. No, ma più lungo, più lungo, sicuramente più lungo. E quindi siamo molto contenti che siate davvero rimasti così tanti. Lo sapete, chi ha l'abitudine di seguirci in questi anni, questa chiacchierata che comincia qui, poi può, deve diventare, se volete, naturalmente un dialogo e quindi il microfono sarà vostro per tutte le vostre domande. Gianni, noi abbiamo avuto più di un'occasione di parlare in pubblico del film. L'abbiamo fatto anche in Germania, Berlino, in una proiezione altrettanto affettuosa e calorosa. E quindi una serie di cose te le ho già chieste. Quindi non te le chiedo di nuovo, anche se loro non c'erano, quindi le tue risposte non le conoscono. Io ho rivisto, dopo un anno, perché l'avevo visto a Venezia, poi il film era in concorso a Venezia lo scorso anno, poi ho avuto modo di rivederlo un'altra volta a Roma, e adesso ho rivisto il finale. Vogliamo partire da lì, perché è un finale struggente, doloroso, inventato, ovviamente, perché poi la verità bisogna sempre un po' inventarla, mentre tutto il resto avete fatto un grande lavoro anche di ricognizione. Partiamo proprio da questo finale. Perché hai scelto di chiudere il film in questo modo, mentre c'è una Ida che va? Perché mi sembra che il personaggio che sconta di più la pena è il personaggio di Ettore. Braibanti è rimasto, diciamo, negativamente proverbiale, non lui come persona, ma lui come caso, per decenni, ancora oggi ne parliamo, e diciamo il caso Braibanti. E pensiamo che tutto quello che di negativo sia successo, in realtà sia accaduto a Braibanti. Io penso che la vittima vera in realtà è, adesso si può dire il nome forse vero, Giovanni Sanfratello. E' quello che ha subito davvero la sconfitta più dolorosa, perché uno si è fatto due anni di carcere, l'altro ha avuto 42 interventi di elettroshock che gli hanno distrutto il cervello, e poi uscito dall'ospedale non è stato nemmeno accolto in famiglia. Nel senso che la testimonianza che lui ha reso in tribunale ha in qualche modo, si è ritorta contro le aspettative della famiglia. Si è sentita offesa ancora di più, perché ha dato in qualche modo la temperatura vera del rapporto. Le parole di Ettore sono parole di un uomo libero, dal gioco di chiunque e di qualunque costrizione. Lui non difende Braibanti, difende la propria libertà e la libertà di tutti noi. In questo senso è un film che io ritengo profondamente attuale, proprio in rapporto a un personaggio come Ettore. Penso che ci siano tanti Ettore non sufficientemente liberi di essere quello che sentono di essere. E allora Braibanti ha subito quello che io racconto con una fedeltà assoluta, dentro e fuori dal tribunale. Quello che invece è rimasto sempre nell'ombra è proprio Giovanni. E ritengo che bisogna combattere perché non ci siano più vittime, non solo come Braibanti ma come Giovanni. Questo è il pensiero. Gianni, posso chiederti, tu da quanti anni avevi nel cuore, nella testa, nella macchina da scrivere, poi nel computer, questa, non questa storia, non quella che abbiamo letto, poi dopo parleremo un po' di come avete lavorato, con tutto il gruppo di scrittura. Da quanto tempo volevi fare o non volevi fare questo film? Ma io devo confessare molto onestamente che i film non li scelgo mai. Voglio che arrivino, che capitino. E anche questa volta c'è stato un produttore che mi ha chiesto ti va di fare un documentario sul caso Braibanti? Io sapevo che c'era pochissimo materiale. Un documentario è stato fatto prima del film, ma basandosi su un testo teatrale. Per il resto c'è pochissima roba, ma io non ho mai pensato di fare un film esplicitamente su un rapporto omosessuale. In realtà certe cose più ti riguardano da vicino e più tu tendi a scansarle, ad allontanarle. E forse c'è un film che si avvicina a questo, che è così di devono, ma non c'è niente di esplicito. Io ho accettato un'offerta di una proposta di Gattoni, una proposta di Marco Bellocchio, e mi sono fiondato dentro una materia che comunque mi riguardava, mi riguarda, e che mi è costato molto fare, rendere sullo schermo. Cioè non è stato per niente un film facile da fare per me. Però non avevo mai pensato di farlo prima, né credo che tornerò sullo stesso tema. Forse Braibanti è stato anche per me un alibi. Io sono andato due volte al processo, due volte alle udienze, e tutte e due le volte mi batteva il cuore, avevo paura, perché dicevo potrei essere al suo posto. E questo mi terrorizzava. Venuto dalla provincia, con Roma sconosciuta, pensa io sono arrivato a Roma dalla Calabria nel 65, e nel 68 entravo al palazzaccio per sentire quelle cose terrificanti, per sentire quella bella che dice «I negri sappiamo che razza sono». E' tutto vero, cioè addirittura, Gattoni lo sa, l'avvocato della Calabria mi ha chiesto di tagliare, di purgare, di non spingermi a tanto, perché oggi giustamente la parola negro è una parola che non si deve nemmeno pensare, e però lui l'ha detta e io volevo che si sentisse questa parola. Così come si sentono le parole di Ettore e di Giovanni che esce come la persona più onesta tra tutti, è l'unico. Diciamo che Aldo ha paura, Aldo ha paura e Aldo è anche arrogante. io l'ho conosciuto personalmente, il suo limite era di non essere simpatico, di non avere proprio la possibilità di colloquiare, di dialogare con qualcuno e nel processo si è comportato con un orgoglio che rassentava la sfida, rassentava proprio la volontà di non riconoscere l'autorità dei giudici, cioè tutto quello che gli avevano sconsigliato i suoi avvocati, quello che gli consiglia anche il giornalista dell'unità. Quando arriva finalmente nell'aula Ettore sentiamo delle parole che nascono da dentro, sentiamo delle parole di una lucidità, di una onestà totale. Per me quello è il momento più importante del film e che io ho voluto anche esaltare insieme a questo ragazzo che mi sta accanto. Perché Leonardo ha fatto qualcosa che ogni regista spera che accadano ne parlavamo oggi con Fausto, no? Cioè il regista spera che succeda qualcosa che vada al di là di quello che sta scritto su un copione e quando accade è davvero un miracolo, è davvero qualcosa che la macchina da presa cattura e c'è per sempre. Per dire che io faccio cinema, mi piace molto il teatro, ho fatto anche teatro e però non lo so, a teatro quella cosa stupenda, bella, quella sorpresa, meravigliosa muore in quell'istante e non sai se l'indomani sera si avvererà di nuovo. al cinema la cosa bella è che quel momento viene catturato e non lo ucciderà nessuno più e questa è la cosa straordinaria. Io non so, l'abbiamo girata due volte, non so dove sarebbe andato ancora Leonardo facendo un terzo ciac un quarto un quinto sicuramente non si sarebbe ripetuto però io vedendo i due ciac girati ho montato il primo perché il primo era quello che coglieva tutto e poi ho tentato di mettere i controcampi no non ci stava hai fatto bene così mi viene da dire comunque per rispondere sinteticamente alla tua domanda io non ho mai pensato di fare questo film né un film così e ho molto sofferto a farlo di tutti i film che ho fatto è l'unico che io non rifarei però rimane lì però rimane lì per sempre come hai detto per nostra fortuna rimane là rimane là dice quando vedo il pubblico che lo vede quando è un film che piace soprattutto alle donne io ho un mio pubblico a Roma composto da in un rione che si chiama Prati c'è un cinema che si chiama Eden e ci sono le signore dell'Eden che seguono i film che io faccio e questo film lo hanno amato in modo particolare e mi hanno suonato alla porta mi hanno citofonato tante volte e a Natale mi è arrivato un bel pacco dono con tutta una serie di prilibatezze che io non posso nemmeno mangiare o bere e il biglietto era firmato da tutte le signore dell'Eden ecco e questa è stata una cosa molto bella diciamo che il film appartiene al pubblico per fortuna ma non voglio che appartenga a me quindi dopo le bimbe di Conti le bimbe di Gianni a me tant'è vero adesso spero di fare un altro film con Gattoni dovremmo cominciare a girare presto ma è tutta un'altra cosa proprio Simone ci racconti appunto lo diceva lo sapevo che non voleva mai farlo quindi era un modo per farti raccontare questa cosa perché avete proposto Gianni siete partiti dall'idea del documentario prima gli passi il microfono Gianni a Simone perché non siete partiti subito dall'idea di un film di finzione su questo progetto ci sono degli incroci pazzeschi perché mi ricordo perfettamente che eravamo a Piacenza io e Marco era il marzo del 2018 per fare un'intervista a Pier Giorgio Bellocchio per Marx può aspettare e chiacchierando diciamo con Marco ma la vicenda Braibantica è una vicenda piacentina io e Marco siamo piacentini andrebbe raccontata sì certo andrebbe raccontata pensavamo un documentario perché è una vicenda così surreale sul reale una vicenda vera cercare di restituire quella crudezza che solo il documentario a volte può dare e Marco ha detto chiamiamo a meglio subito quindi si è andato la Tia Roma chiamiamo a meglio che viene in cava che dice non si può fare perché non c'è materiale lo so già perché vabbè facciamo un film facciamo un film e dice ok quando lo facciamo gli dice appena mi ridate Favino perché noi stavamo per partire con Traditore e poi doveva fare Mamet con Favino quindi appena vi sbrigate voi io finisco a Mamet e faccio questo quindi poi è stata un po' questa la non so non saprei dirti perché se non per il motivo che noi forse stupidamente da locali piacentini vedevamo molto vicino alla cosa quindi il documentario ci sembrava lo strumento migliore per raccontare la storia non avevamo la conoscenza della materia ancora allora come già aveva Gianni è stato lui a guidarci a dirci facciamo un film e noi abbiamo detto sì basta Federico faccio un piccolo giro sento Federico sento poi Leonardo e poi vi passo il microfono Federico appunto lavorare su una storia vera che comunque bisogna strutturare mantenendo anche alcune espressioni che vengono dai materiali del processo è stato un è stato necessario un tempo di scrittura molto lungo penso di sapere di conoscere la risposta è molto diverso dalla prima idea che avete messo poi sulla sulla carta come avete lavorato è stato diverso dalla prima all'ultima idea sì e no perché Gianni aveva già molto chiari i punti focali del film ovviamente poi il processo il processo del processo è stato molto lungo ma perché è stata una vicenda che è durata molti molti anni quindi ha avuto un'istruttoria il processo insensatamente lunga per i tempi della giustizia italiana durò anni e fu anni oltre il limite consentito poi è tutto il dibattimento e via dicendo quindi abbiamo studiato tutti gli altri che per fortuna sono conservati quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di documentazione che era fondamentale necessario e come ha detto prima anche Gianni alcune cose non avremmo mai potuto scriverle meglio di come purtroppo sono state dette durante il dibattimento quindi è stato fondamentale naturalmente avere una conoscenza il più completa possibile della della storia e e poi come ce ne siamo impossessati abbiamo poi il processo è stato quello di liberarci delle di ciò che non ritenevamo fondamentale per poi lasciare entrare quello che invece veniva da qua che Gianni sentiva necessario far arrivare insomma quindi si entrava e si usciva dalla realtà in continuazione ed è stato molto molto forte come come processo ecco Leonardo tu ti sei trovato in un in un lavoro in cui non solo hai avuto il privilegio di essere diretto da da Gianni Amelio ma te sei trovato anche accanto a due straordinari attori quindi Elio Germano che è un attore veramente supremo qui apparentemente sembra fare un ruolo che è difficilissimo però e dall'altro appunto c'è Luigi Locascio raccontaci un po' l'impatto con Gianni il provino un ruolo così importante e anche così difficile certo hai usato la parola giusta è stato un privilegio per me credo di essere stato molto agevolato nella lavorazione perché veramente lavorare con Luigi Locascio era bellissimo perché lui proprio fa sì che il tuo lavoro sia più semplice quindi che le mie battute non dovevo metterci troppo impegno nell'inventarmi che cosa dovevo dire bastava che lo ascoltassi veramente lo guardassi veramente Gianni dice che il provino che mi è stato fatto era in più fasi perché la prima volta ho incontrato Gianni Amelio e mi avevano detto oggi devi andare a incontrare Gianni Amelio e io ho detto mazza Gianni Amelio e non sapevo niente di quello che bisognava fare e lui mi ha detto va bene ci rivedremo e poi la seconda volta sono tornato nello stesso posto dove ho incontrato Gianni Amelio e c'era Luigi Locascio e quindi ho detto ok allora qui forse e poi sono tornato un'altra volta e c'era mia madre e c'era l'Antonacci e quella era la vera prova cioè nel vedere se io potevo essere un figlio se io potevo essere un amante del Braibanti e poi mi ricordo che anche io ero sempre emozionatissimo che questa cosa stava veramente succedendo e che avrei avuto l'opportunità di fare questo film ed ero sempre sull'attenti e durante una prova costume mesi mesi dopo quindi quando stavamo per iniziare le riprese c'era Gianni che mi disse guarda Leonardo il provino è finito cioè calmati stiamo facendo questa cosa lo farà e quindi è stato bellissimo cioè io sono legato a questo film in una maniera indissolubile per sempre perché è stato il momento più importante della mia vita Leonardo grazie ma quando hai capito visto che appunto hai detto mesi e mesi che eri stato poi scelto per questo per il ruolo di Ernesto a Lido a Lido no raccontaci se vuoi dopo che era stato fatto il film me ne sono accorto la scena del viale alberato è la prima scena che ho mai fatto nella mia vita davanti a una macchina da presa ed è stato un giorno bellissimo quella scena dove Ettore e suo fratello stanno tornando dalla torre in bicicletta quella è stata la prima volta che ho recitato e quando è finito ho pensato cavolo però è difficile recitare è difficilissimo perché devi andare in bicicletta avere un dialogo con un'altra persona poi nel frattempo a un certo punto mi dovevo allontanare però è stato bellissimo è stato sentivo di fare di essere parte di qualcosa di importante di qualcosa che c'era un'urgenza che questa storia venisse raccontata e l'esserne parte era un bel sentimento e tuttora quel sentimento ce l'ho recitare al cinema questo bisogna dirlo recitare al cinema proprio perché tu hai fatto poi cioè non è che sei arrivato al cinema impreparato o incontrato non so si può dire la frase che mi hai raccontato oggi in macchina mentre venivamo dalla stazione ah sì sì quella che ha detto Gianni sì sì è la prima volta che mi hai incontrato appena è finito questo incontro e mi hai detto Leonardo tu se domani ti chiama Spielberg me lo devi dire che io vado lì e lo ammazzo però non ho ammassato Marco Bellocchio ah è vero certo allora chi vuole partecipare alla nostra conversazione ci sono dei microfoni che vi possono raggiungere noi abbiamo appena così toccato è chiaro che non abbiamo non siamo entrati troppo dentro i film come poi siamo abituati a fare sì infatti sta arrivando il microfono vorrei fare una domanda al signor Amelio cosa vuol dire per lei la verità nel cinema non è certo la verità della vita è la verità del cinema è una verità che non può vivere senza tutto ciò che è finzione guai a confondere la verità di tutti i giorni con la verità dello schermo io ho sempre avuto in mente una frase detta da Rossellini che suona così il neorealismo è fantasia ma nessuno ma nessun critico l'ha mai scritta questa cosa e tutti hanno pensato che il neorealismo fosse la fotografia delle cose che accadevano per strada non è vero la verità si raggiunge attraverso un procedimento che implica l'invenzione persino la menzogna si deve saper mentire per arrivare alla verità non coincidono le mie verità umane quando io parlo con lei e adesso sto dicendo una mia verità di persona che fa del cinema con le verità che rappresento sullo schermo e che sono estremamente articolate e passano attraverso grandissime bugie non so se se ho risposto non ho idea non ho idea cioè una volta io facevo una seconda unità non so se lei sa cos'è una seconda unità di un film quando ci sono delle cose di seconda mano da girare senza gli attori e si vuole guadagnare tempo si sceglie uno che magari è l'aiuto regista e lo si manda a girare che ne so il dettaglio di un pugnale che si conficca in un in un tronco d'albero il volo di una rondinella le nuvole passeggere insomma un giorno mi mandano a Napoli per girare una cosa nei vicoli nei quartieri spagnoli ma una robetta proprio e mentre vado verso la stazione vedo che c'è un tizio che mi accompagna è un tizio che aveva messo accanto a me la produzione perché era esperto di cose di Napoli e allora io ho detto scusate ma se io dovessi fare un film su Maria Antonietta chi mi mettereste vicino oppure se dovessi parlare non lo so di Robespierre se dovessi parlare anche di Gesù Cristo mi mettereste la Madonna gli Apostoli non lo so il Papa cioè perché la Napoli che io racconterò in quella sequenza me la invento per renderla vera non c'è bisogno di uno che mi dica devi inquadrare così perché Napoli si inquadra così ecco insomma quindi questo grazie l'hanno poi utilizzate le immagini di Napoli come? le hanno poi utilizzate le immagini di Napoli che hai tirato sono talmente mostruose che non ti dirò mai il film ah vabbè peccato ma non sono mostruose per colpa mia no 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 il film dice che non è sono sceme perché era scema la storia insomma che curiosità infinita c'è qualcun altro che vuole si vedo il microfono muoversi forse si laggiù ciao buonasera io ho un dubbio lei ha chiamato il film il signore delle formiche e ci diceva che ha voluto dare anche risalto però alla figura di Ettore giusto il ragazzo più giovane e come mai però nel titolo si dà risalto invece alla figura del di Aldo e non ad esempio i signori delle formiche non so così giusto per capire più il titolo il sì il titolo perché questo titolo diceva certo che sembrerebbe puntare tutto su Braibanti il titolo e pensi come sarebbe stato lungo il ragazzo amato dal signore delle formiche cioè proprio avrebbe cioè i titoli devono essere sempre molto riassuntivi in qualche modo no e devono non necessariamente corrispondere poi allo sviluppo della storia il signore delle formiche è stato scelto perché volevo nobilitare qualcuno che addirittura veniva chiamato formichiere perché mirmecologo è una parola difficile da ricordare e da pronunciare quindi io penso di aver trovato un titolo bello ovviamente ha una matrice letteraria perché c'è l'ombra di Fielding dietro il signore delle mosche non il signore degli anelli ma il signore delle mosche e il signore delle formiche mi sembrava qualcosa di di caldo di caloroso un omaggio alla figura di Braibanti poi è chiaro che il film vira verso la figura di Ettore perché la figura di Ettore rappresenta l'oggi cioè il futuro del 68 cioè oggi magari c'è più qualcuno che soffre all'età di Ettore che non qualcuno che soffre all'età di Braibanti all'età di Braibanti uno ha avuto il tempo di 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 accettare la propria vita e combattere perché gli altri non la tollerino perché è un brutto verbo ma la accettino anche loro tanti ragazzi in realtà hanno paura persino di confessarlo agli amici perché sono bullizzati non parliamo di dirlo in famiglia perché in famiglia non si parla di queste cose ma io per dire tremo ogni volta che sul sul giornale leggo per esempio di un suicidio di un giovane perché è bullizzato a scuola odio un giovane che odio una giovane per carità insomma sono successe delle cose tremende negli ultimi tempi e aumentano sempre una ragazza che cammina con un'altra ragazza mano nella mano per strada viene apostrofata con tutti gli epiteti più vergognosi e immagino questa ragazza che faccia per esempio la insegnante in una scuola materna dove chiaramente i genitori dei bambini il giorno dopo ritirerebbero tutti i pargoli dalla dalla nefasta influenza della giovane donna o del giovane uomo immagino per esempio un maestro elementare un maestro elementare di 25 anni seputa caso in provincia questo ragazzo si svela per quello che è per quello che ha diritto di essere per del lavoro cioè questo è una cosa di oggi non è la storia dei braibanti ma è la storia di tutti i giorni di tutti i giorni cioè se uno ha raggiunto come dice la la serraiocco nel film i fasti della gloria allora sembra che sia tutto facile voglio dire è stato facile per Elton John sposarsi è stato facile anche per Tiziano Ferro è stato facile per Paola Turci grande amica mia ma non è facile per il cosiddetto uomo comune io ho fatto un documentario che forse qualcuno di voi avrà visto che parte da alcuni versi di Sandro Penna il grandissimo poeta Sandro Penna Felice chi è diverso si chiama il documentario dell'inizio della sua lirica felice chi è diverso essendo egli diverso ma guai a chi è diverso essendo egli comune e la cosa ha tanti significati uno dei quali è quello di non essere appunto in qualche modo facente parte di un ceto medio conformista non tutti hanno la forza di ribellarsi non tutti hanno la forza di dire quelli che sono i desideri i moti del del corpo e dello spirito no? io ho molti amici e molte amiche transessuali beh è una cosa terribile il fatto per esempio di quello che sta succedendo adesso per cui c'è difficoltà dopo tante battaglie anche ad avere il riconoscimento sulla carta d'identità si sta tornando indietro di secoli secondo me proprio qui nel nostro paese nel nostro paese per cose che non sono reati perché ancora purtroppo c'è gente che confonde l'omosessualità con la pedofilia che voglio dire è un delitto solo pensarle come due cose analoghe uguali cioè la pedofilia è un delitto l'omosessualità è una natura c'è una differenza enorme grandissima c'è una cosa spiritosa per alleggerire un po' l'atmosfera ho fatto molto sorridere e spero che questo ragazzo arrivi dove vuole arrivare perché sta sfidando una regola molto sciocca quando hanno quest'anno fatto il bando di Miss Italia hanno scritto una frase talmente idiota vi dico quale possono partecipare al concorso di Miss Italia tutte le signorine che sono nate donne è assurdo è terribile cioè scemo è una frase di cretineria assoluta e allora c'è un ragazzo che è trans e ha cambiato sesso però è nato donna si è presentato a Miss Italia ha detto io ho diritto di partecipare al concorso di Miss Italia perché sono nato donna anche se adesso a tutti gli effetti sono un maschio ben gli sta ben gli sta grazie adesso dovranno immettare un modo per non includerla includerlo perché rispetta il regolamento lui ha il diritto di essere incluso poi magari non lo so non è avvenente come tutte le altre devono bocciarlo per ragioni non lo so di gusto però secondo il regolamento lui deve partecipare al concorso perché è nato donna è un ragazzotto che se tu lo vedi proprio non immagini minimamente che possa essere stato una bambina proprio no c'è una barba più lunga della mia tutto insomma capito però però li ha sfidati in modo spiritoso e anche serio molto molto serio secondo me c'è qualcun altro che vuole intervenire no ah sì mi dì prego buonasera ok una delucidazione più che altro sulla scena in cui Braibanti prova il suo spettacolo allora noi abbiamo questa scena in cui Braibanti tenta di creare un testo sulla falsarica di Brecht mi pare di capire dove abbiamo un teatro che va contro le caratteristiche classiche del teatro in cui pone particolare accento sulla spezzettare le parole sul dividerle farle singole per sillabe e così via mi domandavo se quasi per tragica ironia questo non si vada poi a riflettere nel processo nel momento in cui viene interrogato Ettore perché anche lui non riesce a causa dell'elettroshock a parlare fluentemente quindi mi domandavo se queste due scene fossero in qualche maniera correlate o se è una mia fantasia io non ci avevo pensato ci sto pensando adesso insomma trovare una risposta non mi è molto facile diciamo che se non ci ho pensato e non ci penso adesso vuol dire che tra le due scene non c'è assolutamente una relazione per quanto riguarda la rappresentazione teatrale di Braibanti quello ti posso dire sei un ragazzo sei giovane ti posso dire che quello era il teatro tipico di allora cioè in qualche modo polemicamente si opponeva al teatro di parola ed era il teatro di gestualità anche particolare ricercata esagerata innaturale e così anche la parola veniva frantumata spezzata le pause venivano addirittura capovolte cioè Carmelo Bene lo adorava Carmelo Bene era un grande amico di Braibanti e ha sempre confessato di aver appreso tanto da lui però Braibanti non è mai riuscito ad arrivare a dei livelli importanti proprio per la sua natura di persona di uomo cioè era qualcuno estremamente respingente io ho parlato tante volte con lui non mi ricordo un momento in cui c'è stato davvero un guardarsi negli occhi e parlarsi con con la normale sincerità umiltà c'era sempre una barriera soprattutto dopo il processo dopo il processo lui che aveva quello che si chiama un brutto carattere dopo il processo il carattere è peggiorato ancora e lui si è isolato completamente non totalmente dagli amici aveva pochi amici ma molto fidati ma non aveva la possibilità e la capacità e la volontà di di parlare con gli altri di unirsi agli altri il mondo come camminava per esempio per strada rassentava i muri sempre camminava sui marciapiedi ma non normalmente come tutti noi ma proprio sfiorando i muri delle case ed era una cosa abbastanza particolare cioè come se il muro lo proteggesse come se appoggiarsi al muro proprio fisicamente gli desse la forza di non cadere come forse ha avuto tentazione di fare per molto tempo no? sono quelle cose che ti prostrano talmente tanto che ti fanno anche pensare che tu puoi porre termine alla tua vita no? Gianni posso chiederti perché avete sentito la necessità di cambiare il nome? ma non è stata una cosa che mi ha consigliato Gattoni lui avrebbe avuto forse la la possibilità di chiedermelo no? perché è un problema che riguarda più il produttore che il regista ma io non volevo sentire i nomi veri tranne quello di Braibanti perché era necessario proprio narrativamente io non potevo fare a meno di dire Aldo Braibanti però tutti gli altri nomi se fossero stati veri mi avrebbero infastidito perché avrebbero ridotto la vicenda a quella cosa lì ripeto sempre la storia di Magritte che per me è un cioè questa non è una pipa cioè tu più ti avvicini al ritratto meno hai bisogno di dire il nome e il cognome e io volevo arrivare a raccontare il mio Ettore e non il loro Giovanni proprio per allargare la visuale per dire non è non è esistito solo il caso Giovanni Sanfratello e Aldo Braibanti ma oggi ci sono tanti Sanfratello e anche tanti altri Braibanti però Braibanti non potevo non citarlo ecco senti una cosa io sì c'è lì in seconda fila adesso arriva il microfono da questa parte anche di là c'è allora cominciamo con chiaggia al microfono e poi a lei prego sì ci sono stati diversi momenti nel film che mi hanno particolarmente colpito da un punto di vista parlo registico in particolare perché mi interessa molto questo aspetto la parte ci sono due piani in sequenza in particolare la parte in cui la madre scopre sono qua e la parte in cui la madre scopre entra nella camera e la parte in cui le due madri in particolare la parte in cui la madre di Ettore scopre insomma entra nella camera all'inizio del film e la parte in cui la madre di Aldo scopre insomma che gli hanno scritto sul muro di casa c'è questo piano sequenza molto bello di lei che si si prostra diciamo sulla piazza quindi volevo chiederle insomma le scelte che portano poi alla macchinazione di un piano sequenza cioè il rapporto che lei ha con questa tecnica allora diciamo che io non sono un fanatico della dell'espressività sia del piano sequenza o del primo piano o del campo lungo o del piano americano cioè io penso che quando uno muove la macchina deve anche saperla fermare e il piano sequenza spesso viene considerato come un pezzo di bravura fine a se stesso cioè oddio come sono bravo a non staccare perché io sono diciamo a conoscenza di tutta una serie di regole che mi fanno eccellere su ecco ti faccio un esempio di un film sulla prima guerra mondiale io sto per affrontare un film sulla prima guerra mondiale e quello e quel film là lo prendo proprio come l'ultimo modello al quale aggrapparmi che si chiama 1917 che sarebbe un piano sequenza solo che dura due ore e che è una roba che toglie tutta l'umanità alla vicenda alla storia ai personaggi ai protagonisti e gonfia l'ego del regista che si dice continuamente ma come sono bravo ma come sono bravo no cioè io penso che la la linearità della sequenza sia espressivamente corretta nel senso che lo spettatore scopre insieme al personaggio la cosa che turba sia lo spettatore sia il personaggio che la scritta no cioè quindi questo carrello indietro a precedere che nello stesso tempo svela a tutti e due i soggetti madre di brebanti e pubblico l'offesa che fanno brebanti poi c'è un gesto che la madre fa e che io ritenevo bello importante e l'ho inventato all'ultimo momento cioè se quella è una casa appestata perché infetta perché qualcuno dice che è infetta qualcuno ha scritto che è infetta allora io preferisco occupare la piazza e così tutti mi vedranno seduta sulla piazza del paese perché io ho diritto alla mia casa e la mia casa diventa la casa di tutti ecco io non ho pensato al movimento di macchina ho pensato a come raccontare questa cosa come raccontare questi sentimenti che ho appena ti ho appena detto e di conseguenza ho mosso la macchina da presa per raccontare allora si era prenotato lì sì vero? ah c'è il microfono prego è molto bello il modo in cui ha reso questo processo e ha reso complimenti veramente Braibanti un eroe e la cosa che mi ha mi ha meravigliato è la seconda volta che lo vedo e mi è piaciuto ancora di più questo film è il fatto che a Braibanti si pone tra il processo di connivenza e il processo di rottura ha una diciamo che ha un atteggiamento di un imputato che interrogato da questo pubblico ministero infame tace ha un atteggiamento che è vicino a Gesù Cristo vicino al processo di rottura e in questo modo Braibanti si rende conto probabilmente che verrebbe comunque condannato e almeno questa è stata la mia impressione però diventa un eroe e attraverso questo suo film viene almeno a mio modesto avviso viene reso a noi che abbiamo ancora un briccio di umanità come un moderno eroe e in questa nostra società che forse oggi come lei diceva prima è quasi peggiore di quella degli anni 60 è un modo di ricordare questo grande intellettuale che in qualche modo dà un esempio per aiutare persone più deboli come Ettore anche almeno questo è una mia emozione che ho avuto più profonda in questa seconda visione ma Braibanti resta in silenzio perché non vuole un dialogo con chi ritiene Braibanti che non possa averlo con lui nel senso che lui disprezza quella corte quel tipo di giustizia parla di Socrate no? parla di Socrate quello è tutto inventato devo dire quello non l'ha detto Braibanti l'ho detto io l'ho scritto io con Federico e anche molto con Locascio che non ha accreditato ha partecipato alla sceneggiatura ci sembrava bello questo parallelo con Socrate che comunque accetta la condanna perché crede alla legge alla giustizia della legge e lui invece dice fate quello che volete purché non mi tocchiate e usa quella metafora dell'abisso no? perché chi guarda troppo dentro l'abisso finisce poi per precipitarvi per essere guardato dall'abisso stesso quindi lui vuole creare un muro una barriera e lui accetterebbe anche il carcere a vita pur di non scendere al compromesso di dialogare con quelle persone questo è un atto di orgoglio enorme anche se vogliamo masochistico controproducente è l'atteggiamento che gli ha fatto perdere il processo se lui fosse stato più accomodante forse non l'avrebbero condannato a nove anni diciamo che i suoi avvocati l'hanno guidato in un altro modo e lui non ha mai seguito quello che dicevano gli avvocati io ho inventato il personaggio del giornalista proprio perché ci fosse una specie di contraltare alle sue idee al suo atteggiamento questo giornalista che cerca un po' di ammorbidire la posizione così rigida che lui assume in aula no? ed è narrativamente grazie al giornalista che poi lui si apre e parla però dice cose molto violente molto dure molto molto dure Gianni credo che sia importante come potremmo andare avanti ma stiamo chiudendo naturalmente che dopo questo processo allucinante però almeno no? il plagio è sparito dal codice penale ma io spero che il plagio riguardi Albano Albano e sua moglie che non so che riguardi dimmi un cantante Albano ha vinto un processo per il plagio contro Michael Jackson non mi sono sbagliato insomma il plagio dovrebbe essere quello di una canzone copiata di un libro insomma fotocopiato e via discorrendo ma sinceramente se consideriamo plagio quello che hanno ritenuto i giudici di Braibanti allora guardate che non si salva nessuno in questa sala eh nel senso che basta essere innamorati e subito c'è un gesto di plagio immediatamente scatta immediato il fatto di volere in qualche modo che la persona amata sia come noi la vogliamo no? non lo so come la pensate voi ma io per esempio sono sono di una gelosia furente di una invivibilità cronica cioè se io ho un interesse per qualcuno quel qualcuno non ha scampo però soprattutto io non ho scampo quindi attenzione insomma ovviamente allora grazie davvero di cuore a Gianni Amedio a Leonardo a Simone a Federico noi ci vediamo domani sera con un film completamente diverso ci sono gli omaggi del Bobbio Film Festival che che arrivano e che vi vengono consegnati ho detto Gesù io tutto mi auguravo tranne che portare questo in albergo queste sono le litografie che ogni anno Marco Bellocchio prepara per gli ospiti Tony tu ce l'hai la tua a a grazie a tutti